Buonasera a tutti, penso che possiamo iniziare. Mi chiamo Giuseppe Brancato e ho l'onore e soprattutto il piacere di introdurvi oggi nell'ambito dei nostri appuntamenti Vision, che come sapete è il programma scientifico di divulgazione della scuola normale. Quest'oggi Cristina Puzzarini, che è professoressa all'Università di Bologna, quindi dedico solo un paio di minuti e poi lascio a lei la parola per il suo interessantissimo intervento, solo per dirvi qualcosa di Cristina. Pur essendo relativamente giovane, posso dire, perché molto spesso le persone che invitiamo hanno una certa sanità di servizio, Cristina ha un curriculum scientifico di tutto rispetto e in particolare in questo nuovo campo che è quello dell'astrochimica. Come diceva la professoressa Bologna, ma è anche direttrice del centro interuniversitario di cui fa parte anche la scuola normale dell'Università di Napoli per lo studio nel campo dell'astrochimica. Ed è stata anche di recente nominata research professor all'Università del Maryland. Cristina, come dicevo, è un curriculum scientifico molto vasto, più di 200 pubblicazioni scientifiche, è membro di diverse società sia di chimica che di fisica, come l'INFN e l'INAF, è stata visita il professor in prestigiosi università sia in Europa che negli Stati Uniti di America e ovviamente ha organizzato tantissimi convegni, molti dei quali appunto in quest'ambito dell'astrochimica. Cristina è un'esperta di spettroscopia molecolare e questo è un campo dove in modo molto stretto e sinergico convivono sia la parte teorica che quella sperimentale, quindi quella vera e propria di spettroscopia. Il motivo è che nel campo della spettroscopia molecolare, proprio per interpretare il risultato degli spettri, è necessario molto spesso avere un supporto teorico, quindi è molto naturale per teorici lavorare insieme a spettroscopisti e sostanzialmente vi è una condivisione anche delle esperienze, per cui Cristina ha ovviamente molta esperienza sia dal punto di vista del calcolo, quindi della chimica teorica, di calcoli, di geometrie, conformazioni e segnali spettroscopici molecole sia dal punto di vista della spettroscopia molecolare sperimentale. Inoltre, come potete immaginare, la spettroscopia molecolare, in particolare questa in fase gassosa, vede due applicazioni, due campi di applicazioni principali. Quello atmosferico-ambientale, che penso sia abbastanza ovvio ai più perché sia di interesse, è questo nuovo campo, sembra un po' più esotico, appunto denominato di astrochimica. Il motivo per cui questo è un campo invece di grande interesse e sta diventando sempre più importante nel futuro è che, grazie a nuovi strumenti di spettroscopia, sono stati individuate nello spazio interstellare nel cosmo a distanze intergalattiche. Tante molecole che prima non si conoscevano, sostanzialmente la nostra coscienza del cosmo prima era basata su pochissimi atomi o molecole elementari. Invece abbiamo scoperto che ci sono tante molecole, come per esempio molecole molto vicine o del tutto simili agli amminoacidi o alle basi azotate che invece conosciamo, e questo ha stimolato ovviamente la fantasia e l'interesse di tantissimi ricercatori in questo campo. Siccome vi è un grosso progresso anche da posizione sperimentale in queste tecniche, è prevedibile che anche negli anni futuri, quindi l'interesse e la ricerca in questo campo si espanderà. E da qui ritengo quindi molto appropriato e timing, come dicono gli inglesi, questo intervento. Solo una nota di colore, poi voglio dire che Cristina è una grandissima esperta nella preparazione del ragù, da previssima bolognese, e questa è anche una piccola qualità che personalmente ho apprezzato in anni passati. Bene, con questo concludo e le scedo volentieri la parola. Grazie. Grazie. Grazie per l'introduzione. Questo è il titolo che avrete già avuto modo di vedere. Tutto parte da una frase, questo seminario, che uso molto spesso nei seminari, diciamo, pseudo-divulgativi, che è appunto l'umanità osserva il cielo da millenni. E cosa succede se noi guardiamo il cielo di notte lontano dalle luci della città? Vediamo le stelle e l'impressione che tra una stella e l'altra non ci sia nulla, ci sia il vuoto. In realtà, in prima approssimazione, non siamo lontanissimi dal vero, ma come spesso accade, la piccola quantità fa una grandissima differenza. E la grandissima differenza è stata scoperta, se ci pensiamo, piuttosto recentemente, se prendiamo la frase iniziale, l'umanità osserva il cielo da millenni. Nel 1904 Hartmann ha scoperto il gas interstellare e poco più di due decenni più tardi è stata scoperta la polvere interstellare. Che cosa c'è nel gas interstellare? Quello che era chiaro fin dai primi decenni del Novecento era che fosse ricco di atomi, per quanto ricco comunque dobbiamo pensare che è sostanzialmente vuoto. Gli atomi più leggeri si sono prodotti proprio al momento del Big Bang, quindi idrogeno, elio, litio. Poi l'espansione ha fatto raffreddare il tutto, è iniziato il collasso gravitazionale, la formazione delle stelle, nucleosintesi e sono arrivati gli altri atomi. E quindi siamo fino a metà degli anni del secolo scorso, quindi verso gli anni 50, l'idea era che l'universo, appunto il mezzo interstellare, fosse un posto ricco di atomi, ma un ambiente troppo ostile per le molecole. Troppo ostile perché, appunto, temperature bassissime, qualcosa che neanche riusciamo a immaginare su questa Terra, densità bassissime, densità addirittura più basse di quelle che noi otteniamo in laboratorio con pompe d'alto vuoto e poi radiazioni ionizzanti. Il tutto però ha iniziato a scardinarsi a un certo punto. Hanno scoperto che, appunto, c'erano le molecole. Ma per i non chimici che cos'è una molecola? Allora, possiamo prendere gli atomi e, tra l'altro, quest'anno è l'anno internazionale della tavola periodica. Sappiamo che sono organizzate anche per i non chimici, sappiamo che sono organizzate nella famosa tavola periodica degli elementi. E possiamo prendere questi atomi e paragonarli alle lettere dell'alfabeto. Come le lettere dell'alfabeto le combiniamo per formare le parole, gli atomi le combiniamo per formare le molecole. Ma non ci fermiamo mai nel linguaggio delle parole, ma andiamo verso le frasi, i paragrafi e i libri. E analogamente con le molecole andiamo a complessità sempre più complesse. Quindi questo è il mondo che abbiamo sulla Terra. Che cosa c'è di questo nello spazio? Allora, il tutto è iniziato a cambiare appunto circa 80 anni fa, con le prime osservazioni spettroscopiche nel visibile e nell'ultravioletto. Adesso cercheremo di capire che cosa significa osservazioni spettroscopiche. Siamo alla fine degli anni 40, le molecole sono veramente piccoline, poche, due atomi, e nella maggior parte dei casi una delle due è un idrogeno. Comunque si osservano le prime molecole. Ma c'è ancora molto scetticismo, ma sì, sono poi due atomi così combinati, poco più di un atomo. E tant'è che ancora l'idea era che non ci fosse, non avessero tanto importanza le molecole. Ma abbiamo detto che sono state scoperte queste prime molecole con delle osservazioni spettroscopiche. La spettroscopia che cos'è? Sostanzialmente è l'osservazione di luce. Nel caso della spettroscopia astronomica, la nostra luce, la nostra sorgente è la stella. Se la luce, quindi la radiazione, proveniente dalla Terra, non incontra, dalla stella, non incontra nulla, quindi non interagisce con nulla, viene osservato completamente lo spettro della radiazione luminosa. Se però intercetta qualcosa, quindi incontra qualche cosa sul suo cammino, succede qualcosa. Allora si osserva qualcosa di differente. O in emissione, o in assorbimento, non si vede più uno spettro continuo, quindi questa, in questo caso, è lo spettro del visibile, quindi questa colorazione tipica dell'arcobaleno, ma soltanto delle righe. E queste sono le transizioni spettroscopiche, quelle che poi sono così caratteristiche delle molecole, che sono quelle che ce le fanno scoprire, tanto che parliamo di impronte digitali. E quindi è sostanzialmente a grandi linee quello che avviene. E di luce ce n'è di tanti tipi differenti, quelle a cui noi siamo abituati è la luce visibile, che è quella che appunto ci permette di vedere. Conosciamo l'ultravioletto, quantomeno per tutte le raccomandazioni che riceviamo d'estate quando andiamo al mare, dagli esperti per i filtri solari, ma c'è anche l'infrarosso. E in realtà quelle che ci interessa per scoprire le nostre molecole sono le microonde, che non sono tanto diverse da quelle del forno utilizzato in casa. Sono giusta a frequenza un po' più altra. L'uso delle microonde per osservare le molecole, per andare a vedere se c'erano le molecole, è stato suggerito da Towns, un signor scienziato che ha preso il premio Nobel per il Maser, quindi che poi ha portato allo sviluppo del laser, che nel 55 al quarto simposio dell'Unione Astronomica Internazionale ha suggerito di utilizzare questa tecnica spettroscopica per cercare e osservare le molecole nello spazio. Non l'hanno preso molto seriamente, probabilmente perché ancora nel 55 si pensava che molecole non ce ne fossero, quindi non fosse qualcosa di interessante da andare a osservare. Sta di fatto che comunque la spettroscopia nel campo appunto delle microonde, delle radiofrequenze, è andata avanti. E la prima osservazione di una molecola con questa tecnica risale a qualche anno più tardi, siamo nel 63, è ancora una molecola piuttosto piccolina, l'OH, quindi un atomo di ossigeno e un atomo di idrogeno. Poi questa spettroscopia prende piede, prende piede e tutto cambia. Fine degli anni 70, prima degli anni 70, nel 75, siamo già a osservare molecole di queste dimensioni. Quelle che gli astrofisici chiamano molecole organiche complesse, che fa sorridere i chimici, perché quando un chimico pensa a una molecola organica complessa, pensa a qualcosa di molto più grande. Però effettivamente ha una complessità notevole, se pensiamo sempre a quello che potremmo definire come gelido vuoto che sta là fuori. Nonostante queste temperature così basse, questa densità così bassa, riusciamo a mettere insieme degli atomi in qualcosa di così elaborato. E poi prosegue, prosegue negli anni con un passo sempre più veloce. Nel 2000 abbiamo l'osservazione di quello che può essere considerato il primo passo verso lo zucchero, giudicarlo. Loro, gli astrofisici, lo definiscono zucchero, i chimici insomma. Un po' così, comunque ci siamo, siamo su quella strada. E poi continuiamo. La molecola più interessante recentemente scoperta risale a pochissimi anni fa, 2016. L'ossido di propilene. Il fatto che sia interessante è che la prima molecola, è per il momento unica molecola chirale scoperta nello spazio. Che cos'è una molecola chirale? Una molecola chirale per i chimici è un concetto base, comunque è una molecola che non è sovrapponibile alla sua immagine speculare, esattamente come le nostre mani. Perché è così interessante? E perché questo studio è stato pubblicato su Science, quindi su una rivista molto prestigiosa? Perché la vita come la conosciamo noi è basata sull'omochiralità. Quindi gli aminoacidi sono chirali, sono quasi tutti chirali, e soltanto uno dei due, quindi una delle due immagini speculari, è quella che porta avanti il tutto. A che punto siamo? Siamo che al momento abbiamo più di 200 molecole identificate nel mezzo interstellare e in quelle che vengono chiamate le envelope circonstellare, quindi proprio quella zona attorno alla stella. Quindi sono tante. E la maggior parte di queste sono state proprio identificate grazie alle impronte, tutte sono state identificate grazie alle loro impronte digitali spettoscopiche, e anche la maggior parte grazie alle impronte digitali spettoscopiche nel campo delle microonde, come campo di frequenza, quindi quello suggerito da Taus. E questa è un'idea di quello che si osserve. Si osserva. Questa è la grande nume di Magellana, Magellano visto all'infrarosso. Combinando infrarosso e visibile abbiamo questi colori molto belli, dove questi picchi di luminosità corrispondono appunto degli assorbimenti delle molecole. Molto bello, ma con queste rappresentazioni si fa poca strada. In realtà quelle che servono sono cose molto più noiose, che vengono raccolte, ad esempio, da radiotelescopi. Quindi l'aspettoscopia nel campo delle millimetriche viene fatta nelle onde a microonde, di cui le onde millimetriche e submillimetriche sono una parte, la parte più interessante per le molecole, viene fatta soprattutto da terra, con i radiotelescopi. E da qualche anno a questa parte abbiamo un potentissimo oggetto, che è ALMA. ALMA è l'acronimo di questo Atacama Large Millimeter, submillimetre Array. È un interferometro formato da 66 antenne, quindi da radiotelescopi, sul deserto, alto piano desertico di Atacama in Cile. E qui vedete questa bellissima immagine delle antenne con la via Lattea. Bella immagine, ma in realtà quello che ALMA raccoglie sono tanti grafici di questo tipo, quindi piuttosto noiosi, tutt'altro che belli come le immagini precedenti, ma ricchi di informazione. La parte in nera, appunto, l'osservazione radioastronomica, questo è un esempio di spettro, e in rosso è le impronte digitali spettroscopiche, appunto, nel campo delle microonde, che corrisponde a qualcosa di particolare della molecola. Le molecole fanno tante cose, tra le cose che fanno, ruotano. E la spettroscopia nel campo delle microonde, appunto, la spettroscopia che va a indagare la rotazione delle molecole, che è proprio quella più sensibile alla forma, alla struttura della molecola, è per questo che ci permette di dire senza ombra di dubbio di che cosa si tratta. E quindi sostanzialmente è una ricerca, perché quello che osserva ALMA e un radiotelescopio in generale è l'insieme di tante impronte digitali, di tutte le molecole che ci sono, e quindi uno va a cercare, con le informazioni che ha, la molecola che pensa potrebbe essere presente. E quindi così sono state scoperte le varie molecole. E tutto questo che cosa richiede? Richiede un grandissimo sinergismo tra l'osservazione radioastronomica e il laboratorio di spettroscopia. Perché appunto i radiotelescopi osservano questi spettri, ma se non c'è lo spettroscopista che gli dice come capire, quindi come andare ad assegnare le varie molecole, quelle impronte digitali, non si ottiene alcuna indicazione. E questo è sostanzialmente il mio campo di ricerca, una parte del mio campo di ricerca, e poi, come diceva Giuseppe, c'è un grandissimo sinergismo tra la parte sperimentale e la parte computazionale, quindi la quantum meccanica che ci permette di, il laboratorio, quando appunto vogliamo, otteniamo questo bello spettro, ci permette di capire che cosa stiamo guardando, capire, razionalizzare, per poi passare alla radioastronomia. E qui un esempio ottenuto nel mio laboratorio, in collaborazione con il gruppo del professor Barone della scuola normale. È una molecola, l'etanimmina, molto interessante, perché appunto è potenzialmente precursore di un aminoacido, l'alanina, ma tra l'altro ci sono studi che mettono in evidenza il fatto che sia, possa giocare un ruolo importante nella formazione di molecole biologiche. E abbiamo proceduto appunto come vi ho sintetizzato prima, cioè abbiamo caratterizzato prima dal punto di vista quanto meccanico la molecola, quindi le varie sue forme, come vedete, questa specie come li chiama mio figlio i cagnolini, con il muso in avanti, il muso girato all'indietro, l'abbiamo caratterizzato strutturalmente, energeticamente, spettroscopicamente, in tutti i suoi aspetti, perché la coda del cagnolino ruota e questo dà delle cose molto particolari nello spettro. E poi abbiamo un potentissimo oggetto che è un programma messo a punto soprattutto qua, ma per la parte, per quello dell'aspectroscopia rotatuzionale in collaborazione con il mio gruppo in cui gli si danno tutte queste informazioni strutturali ed energetiche e lui ci restituisce questi bellissimi spettri. E ora vedete come sono differenti. è la stessa molecola, semplicemente quell'H è girato da una parte o dall'altra e il suo spettro, le sue impronte digitali sono completamente differenti. E uno dice beh, una volta che abbiamo questo è perché non andare a cercare direttamente nello spazio? È perché per quanto noi possiamo essere precisi con i calcoli non siamo sufficientemente precisi per la radioastronomia. Quindi in realtà utilizziamo questi per andare a capire che cosa otteniamo sperimentalmente. Ed è molto importante avere le indicazioni perché ad esempio l'etanimmina è una molecola instabile. La produciamo per pirolisi di una ammina commerciale. Perché ormai le molecole facili sono già state scoperte tutte, già caratterizzate tutte e quindi bisogna andare sul difficile. E ovviamente quando si fa si polarizza qualcosa cioè significa scaldare questa molecola qui a 800 gradi viene fuori un po' di tutto. Quindi in realtà questa è un po' come nel caso dello spettro ottenuto con la radioastronomia c'è tante ci sono tante molecole qua dentro e noi dobbiamo andare a capire invece quali sono le impronte digitali che interessano a noi. E appunto col calcolo quanto meccanico ci riusciamo quindi senza andare nei dettagli di che cosa significano quei numeri. Dopodiché siamo pronti per fornire le previsioni veramente precise e queste sono previsioni che nascono da dati di laboratorio con i quali appunto si può andare alla caccia delle impronte digitali negli spazi interstellari per questa molecola. Ritornando alle molecole nello spazio quindi abbiamo capito che a partire dagli anni settanta è cambiata la visione delle cose si è reso chiaro il fatto che le molecole fossero presenti e con una certa complessità ed è il momento in cui possiamo dire che è nata l'astrochimica e con sé ha portato ovviamente la volontà non soltanto di cercare queste molecole ma di capire come queste molecole si siano formate anche perché ve l'ho già ripetuto due volte parliamo di un posto altamente ostile alla formazione delle molecole e nonostante tutto queste si sono formate e quindi è nata questa nuova scienza astrochimica che nasce chiaramente dalla fusione di astronomia e chimica che vuole rispondere a tante domande prima fra tutte appunto come si formano le molecole più piccole come evolvono quindi vanno verso molecole più grandi e tra le grandi molecole tra le grandi domande a cui vuole rispondere è come è nata la vita sulla Terra quindi qual è l'origine diciamo molecolare della vita e qui sostanzialmente abbiamo due teorie quella della sintesi endogena e quella della origine esogena che cosa ci dice la sintesi endogena la sintesi endogena dice che vabbè le molecole prebiotiche prebiotiche sono quelle che danno albito la via tutto ciò che è poi biologico sono si sono formate sulla Terra e il punto di riferimento è questo esperimento di Miller-Hurie in cui sono partiti da quella che è diciamo l'idea che abbiamo della atmosfera della Terra primitiva ricca di metano di idrogeno ammoniaca con un po' d'acqua sicuramente fonti di energie simulate dalla scarica elettrica in questo esperimento hanno trovato diverse la formazione di diversi composti organici amminoacidi e basi del DNA quindi un esperimento molto potente che però giustamente dicono beh un pallone di reazione non è proprio una buona approssimazione di un pianeta però noi abbiamo una grossa fortuna perché nel nostro sistema solare abbiamo Titano Titano è la luna più grande di Saturno è la seconda luna più grande di tutto il sistema solare che è stata studiata tantissimo grazie alla missione Cassini-Jugens che è durata quasi 20 anni che aveva come scopo studiare l'intero sistema di Saturno e che ci ha fornito tantissimi dati tantissime informazioni buona parte dei quali sono ancora in fase di elaborazione e addirittura ha permesso di mandare al suolo la sonda Jugens dell'ESA nel gennaio del 2005 che è la sonda che l'uomo è riuscito a far atterrare sul pianeta più lontano quindi la sonda più lontana che siamo riusciti a far atterrare nel nostro universo e all'inizio ha portato un po' di diciamo delusione perché la sonda ha trovato un suolo sabbioso quasi e ci si aspettava queste distese di fiumi laghi di metano in realtà laghi di idrokerburi ci sono ma sono stati confermati soltanto tre anni più tardi da alcuni studi della NASA e ti danno perché è interessante perché appunto ha un ciclo idrogeologico che è basato sul metano non sull'acqua come nel caso della Terra però ha questa atmosfera molto riducente quindi potrebbe essere molto simile a quella che era la Terra primordiale anche se effettivamente è molto fredda perché è titano siamo a meno 180 gradi poi i vari strumenti a bordo della sonda Cassini che cosa hanno permesso di mettere in evidenza ebbè hanno permesso di mettere in evidenza una chimica organica veramente ricchissima succede di tutto in in quell'atmosfera e in particolare si formano cose molto esotiche che sono dei grandissimi carbocationi e carbagnoni cosa sono questi carbocationi e carbagnoni sono delle strutture molto grandi contenenti carbonio e idrogeno che hanno nel caso dei carbocationi una carica positiva nel caso dei carbagnoni una carica negativa e quindi con questi dati che però sono dati da spettrometri di massa quindi non non è spettroscopia sostanzialmente sappiamo la dimensione di queste cose più o meno la composizione a seconda della risoluzione dello spettrometro e quindi non è chiaro bene quale specie ci siano ed è per questo motivo che con i dati di Cassini in collaborazione con il gruppo di all'università del Maryland con cui ho in corso un altro progetto finanziato della NASA lui è un era è stato uno del di quelli che hanno in mano i dati di Cassini era il capo progetto di uno degli spettrometri abbiamo cercato di razionalizzare di capire che cosa avviene su questa in questa atmosfera e sostanzialmente nell'altra parte si formano dei cationi molto piccoli cioè di queste molecole con la carica positiva e queste danno sostanzialmente delle reazioni a catena e queste molecole diventano sempre più grandi sempre più grandi fino a formare delle vere proprie macromolecole quindi siamo a situazioni in cui abbiamo arriviamo a una complessità molecolare che è tipica delle macromolecole che conosciamo sulla terra di carattere prebiologico queste poi si addensano si interagiscono tra di loro non tanto per formare delle altre reazioni ma per formare gli aerosol e formano una vera propria nebbia che è quella che dà questa colorazione tipica a Titano una nebbia spessissima però quella è la prossima tappa abbiamo parlato di carbonio e di idrogeno si fa poca strada con carbonio idrogeno abbiamo bisogno almeno almeno di azoto se vogliamo parlare di molecole prebiotiche poi qualche traccia d'ossigeno c'è quindi possiamo sperare anche in qualcosa e quindi bisogna cercare sì i carbocationi magari ma anche magari molecole neutre però in cui ci sia un azoto e qui sta arrivando in aiuto perché appunto purtroppo la risoluzione della maggior parte degli spettrometri su Cassini non permette di distinguere se si tratta di azoto o di carbonio più idrogeno viene in aiuto nuovamente Alma che ha iniziato a fare le prime osservazioni e ad esempio questa la cloruro scusate il cianuro di vinile quindi gli atomi grigi sono carboni quello blu è un azoto e i bianchi sono idrogeni è stata osservata su su titano quindi effettivamente su titano iniziamo a vedere le prime molecole prebiotiche quindi c'è ancora tanto da capire però siamo sulla strada giusta passando all'origine esogena che cosa afferma questa è il contrario no no afferma che le molecole prebiotiche soprattutto le prebiologiche quindi le prebiologiche possiamo per intenderci possiamo considerare prebiologiche gli amminoacidi si sono formate nello spazio e sono arrivate noi già fatte come si sono arrivate con attraverso asteriti asteroidi comete meteoriti eccetera quindi pioggia a supporto di tutto questo cosa abbiamo a supporto di tutto questo abbiamo qualche osservazione e però sarebbe bello trovarle le abbiamo trovate queste molecole prebiotiche e poi ovviamente è importante anche capire come si sono formate allora a supporto di tutto questo possiamo partire per per capire da quello che è ormai diventato il santo graal perché tutti cercano questa glicina e nessuno la trova e in effetti nelle impronte digitali della glicina nel mezzo interstellare non l'abbiamo ancora vista però evidenze ci sono della sua presenza fuori dalla terra una delle più recenti è quella fornita da Rosina Rosina è lo spettrometro di massa che era a bordo della sonda spaziale Rosetta che era appunto una missione dedicata allo studio di comete e nella chioma la chioma è quella specie di atmosfera delle comete quindi quella nebbiolina che hanno attorno di questa cometa che ha questo nome impronunciabile che è la 67 è stata trovata la glicina quindi la glicina è stata trovata sulle comete è stata trovata anche nelle meteoriti che hanno raggiunto la terra e sicuramente tra le varie meteoriti la più famosa è quella di Marcinson che prende il nome dal paesino dove è precipitata nel 69 è un paesino dell'Australia perché è diventata famosa intanto per le sue dimensioni e che ha permesso che i vari pezzi siano stati studiati in tantissimi laboratori sono ancora tuttora studiati e ha messo in evidenza circa un'ottantina di aminoacidi però c'è sempre il dubbio sia per le osservazioni sulla cometa che per le osservazioni per le analisi fatte sulle meteoriti che ci sia un'ingerenza diciamo umana una contaminazione umana effettivamente le analisi degli aminoacidi dei vari meteoriti sembrano dire di no perché soprattutto per la Marcinson inizialmente le composizioni sembrava essere racemica mentre sappiamo che abbiamo appunto o l'uno o l'altro tendenzialmente sulla nostra terra e comunque anche nel caso di arricchimento in antiomerico cioè delle due famose immagini speculari sarebbe molto diverso da quello che abbiamo terrestre quindi sembra che non si abbia questa contaminazione però rimane sempre il dubbio per cui c'è proprio voglia di trovarla la glicina là in mezzo la glicina negli spazi interstellari è praticamente quella zona che è tra le stelle quindi soprattutto quella più in alto a sinistra e questa è una bellissima immagine che vi raffigura quello che è molto schematicamente il ciclo di una stella se partiamo dalla nube diffusa è una nube appunto dove la densità è bassissima temperatura bassissima dove si formano le molecole più semplici poi la gravità il collasso gravitazionale inizia a farsi sentire per cui la nube inizia a diventare più densa più densa quindi reattività maggiore si formano molecole più complesse poi il collasso gravitazionale è continuo per cui si forma un nucleo centrale che è quello che poi diventerà la stella si ha questo dischio di accrescimento che poi evolverà in un sistema solare e come vedete è in questa fase che ci si aspetta poi che le molecole prebiotiche prebiologiche arrivino sulla terra poi cosa succede a un certo punto la stella muore muore sostanzialmente ad esempio nel caso delle più massicce con un'esplosione di supernova perdita di massa e quindi siamo nuovamente all'inizio del ciclo quindi sostanzialmente è in questa fase che si vorrebbe che poi andando più in dettagli tecnici abbiamo una fase prestellare una fase protostellare quindi proto nel senso proprio rende anche l'idea tipo prototipo di stella e poi di disco protoplanetario che è quello che poi darà vita alla nostra al sistema solare ma è importante anche questa fase perché in questa fase quando si ha la perdita di massa si forma quel famoso polvere interstellare che vi dicevo all'inizio che è stata scoperta nel 1930 che gioca un ruolo molto importante nella formazione delle molecole quindi quello che noi vorremmo scoprire è se con il dubbio che ci sia contaminazione sui risultati per quel che riguarda le comete e le meteoriti se riusciamo a osservare in queste fasi di vita di una stella quindi nel cosiddetto mezzo interstellare in queste nubi dense o diffuse queste molecole prebiologiche la notizia è che la glicina appunto come vi dicevo non si vede e la glicina è l'aminoacido più semplice il problema delle impronte digitali spettroscopiche è che quando cresce molto la complessità di una molecola le impronte digitali diventano tantissime diventano tante e tutto sommato è come se la molecola avesse un suo budget energetico e per cui le deve distribuire tra tante cose tra tanti figlioletti e per cui il rischio è che in realtà le sue impronte digitali siano troppo deboli per essere osservate e quindi che cosa fare per confermare la possibilità che effettivamente molecole come la glicina o addirittura aminoacidi più complessi si possano formare dobbiamo fare un passo indietro dobbiamo fare un passo indietro e cercare molecole prebiotiche più semplici però non andiamo a cercare molecole prebiotiche più semplici andiamo a cercare quelle che sappiamo essere coinvolti nei cammini di formazione delle molecole prebiologiche che vorremmo tanto trovare cosa sono i cammini di formazione i cammini di formazione sono l'evoluzione da molecole più piccole appunto quelle che vogliamo andare a trovare partendo da molecole più piccole questi fanno una strada fino alla formazione della molecola grande che vogliamo e come si formano quindi queste molecole nel mezzo interstellare la chimica è ancora c'è ancora tanto da capire c'è ancora tanto da studiare del bello però quello che è assodato è che sostanzialmente la fanno da padrone due tipi di chimiche quella in fase gassosa cioè le molecole appunto per quanto la densità sia molto bassa riescono a scontrarsi e reagire oppure sulle superfici e la superficie è quella famosa polvere interstellare che vi ho detto che gioca un ruolo importante e comunque indipendentemente da qual è la strada con cui la molecola si forma fatto sta che dobbiamo individuare i precursori e ovviamente sono molecole che quindi sono prebiotiche che devono essere già state osservate e dobbiamo trovare la strada appunto per partire da questi precursori e arrivare alla molecola che ci interessa allora qui abbiamo un esempio di chimica in fase gassosa una cosa un po' particolare nel 2007 è stato osservato questo ione negativo nel mezzo interstellare C8 quindi 8 atomi di carbonio in linea proprio e un idrogeno e una carica negativa l'ipotesi di formazione è che una molecola come vedete due molecole più piccole il C2 H reagisce con il C6 H2 si forma il C8 H2 e si stacca un idrogeno e poi arriva questa H2 che sta a indicare una radiazione quindi una fonte di energia che spacca un legame questo però da solo tanto volentieri non ci sta quindi cattura un elettrone e si forma la molecola a cui siamo interessati liberando energia quindi sembra tutto molto semplice ma se uno lo va a vedere in dettaglio in realtà è tutto molto complicato se prendiamo qualcosa di addirittura più piccolo come la forma amide la forma amide poi è importantissima in campo astrochimico perché è dimostrato essere la base di tante strade sia di carattere nell'ambito sia di carattere metabolico che nell'ambito della teoria dell'RNA per portare a molecole più grandi biologiche come basi del DNA quindi è una molecola piccolina come vedete un atomo d'ossigeno un atomo d'azoto un atomo di carbonio tre di idrogeni piccoline però c'è tutto quello che deve avere una molecola prebiotica ecco abbiamo studiato sempre in collaborazione col gruppo del professor Barone il cammino di formazione questo è uno dei percorsi come vedete è tutt'altro che semplice lo sapevo che prima o poi sarebbe successo quindi come vedete la strada è piuttosto tortuosa sostanzialmente partiamo da due molecole i nostri precursori due molecole piccoline che sappiamo che ci sono poi il nostro cammino di reazione è un po' come una passeggiata in montagna si va giù in una valle poi bisogna passare un passo poi si ritorna giù e si va su e giù con dei vincoli molto stringenti che sono temperature basse temperature basse vuol dire che non avete barrette energetiche nello zaino quindi tutto deve stare al di sotto dell'energia dei nostri reagenti di partenza quindi tutto questo sale scendi deve avvenire ad energie più basse perché dall'esterno non abbiamo aiuti densità bassissime cosa significa? Beh significa che buona grazia che si incontrano loro due e non possiamo di certo sperare nel coinvolgimento di una terza molecola quindi tutto molto complesso e poi cosa significa? Significa anche che tutto questo cammino ipotizzato eccetera eccetera va caratterizzato quindi per ogni intermedio stato di transizione stato di transizione sono quelli alti gli intermedio sono quelli bassi va caratterizzata la struttura l'energia va caratterizzato spettroscopicamente e poi va testata la cinetica cosa significa? Significa che bisogna controllare che tutto questo avvenga con una velocità ragionevole perché magari bella però poi ci mette è troppo lenta e quindi non avviene e quindi questo è tutto quello che va va fatto e anche questo fa parte del del mio ambito di ricerca ancora una volta e qui è soprattutto la quanta meccanica che la fa da padrone perché? perché purtroppo dal punto di vista sperimentale sono ancora pochissimi ma veramente pochi 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 gli esperimenti che sono in grado di riprodurre le condizioni così estreme o condizioni abbastanza estreme da essere assimilabili a quelle del mezzo interstellare mentre la quanta meccanica gli potete dare tutta la temperatura che volete la densità che volete non ha di questi problemi ecco perché per il momento la fa da padrone però abbiamo sempre l'esperimento che ci permette di controllare e verificare perché ad esempio alcuni intermedi più stabili possiamo cercare di caratterizzare spettroscopicamente e poi magari andarli a cercare con la radiastronomia e per vedere che appunto l'ipotesi di cammino possa funzionare poi la radiastronomia ci dà altra informazione ad esempio questa è una figura veramente difficile da interpretare ma sostanzialmente quello che ci dice è che se una molecola la osserviamo in un punto piuttosto che in un altro allora si può essere formata soltanto per via in fase gassosa e non sui grani quindi anche queste informazioni saltando diciamo lo step spettroscopico se non riusciamo ad averlo possono essere conferme possono arrivare dalla direttamente dalla radiastronomia però abbiamo detto che la chimica può avvenire anche sui grani questa reattività come sono fatti questi grani sostanzialmente sono dei cuori di silicati refrattari tipo le olivine ricoperti da ghiacci e sul ghiaccio ci sono assorbite le molecole e questo grano ha un doppio un doppio ruolo intanto come vedete è piccolissimo perché la dimensione media è di un micron scusate ha la ruola di protezione perché protegge le molecole assorbite dalle radiazioni ma le tiene anche vicine e quindi possono reagire poi magari si avvicina una a quella assorbita e quindi permettono anche la reattività ora come ora non siamo in grado di dire di fornire una ricetta se una molecola si forma su grano o si forma in fase gassosa in realtà è una battaglia di solito piuttosto accesa nel campo quindi c'è ancora tanto veramente tanto da fare tantissime domande aspettano una risposta e quindi l'avventura non solo continua ma l'avventura è decisamente solo all'inizio ed è quello il bello e con questo vorrei ringraziare prima di tutto il mio gruppo un gruppo di giovanissimi bravissimi e giovanissimi a parte il professor Dore gli altri sono tutti giovanissimi e bravissimi e poi la collaborazione con il mitico professor Barone e il suo gruppo e il la collaborazione con finanziata dalla NASA con il professore Ali e Drew dell'università di Maryland e voi e vorrei ringraziare prima di ringraziare voi per l'attenzione appunto come ha detto scusate come ha detto Giuseppe abbiamo questo centro star di astrochimica che ha sede qua alla alla scuola normale è un centro interno universitario che coinvolge Bologna e Napoli e che appunto cerca di mettere insieme esperimento teoria e radioastronomia per cercare di rispondere alle domande che vi ho mostrato e con questo posso ringraziarvi grazie grazie Cristina anche per questa bellissima presentazione nonostante la salute non del tutto ottimale prima di invitarvi al nostro rinfresco che verrà servito in un corridoio su questo piano abbiamo qualche minuto per domande o curiosità quindi prego vorrei sapere se queste cosiddette molecole che sono troppo instabili forse per essere chiamate molecole sono cioè hanno valenze non saturate se ho capito bene o qualcosa del genere ecco che vite hanno perché la domanda che verrebbe spontanea all'ignorante come me ignorante di questa materia è perché bisogna cercare un cammino di formazione nello spazio non potrebbero se avessero una vita sufficientemente lunga essersi formata in zone in momenti in cui la temperatura era un po' più alta quindi le reazioni erano più veloci e il problema è che il momento in cui la temperatura è un po' più alta nello spazio sono veramente pochi ci sono giusto le zone di formazione stellare in cui si hanno si ha un riscaldamento e il riscaldamento sostanzialmente porta nella maggior parte dei casi a rilasciare le molecole adsorbite sul grano e quindi ad aumentare la reattività anche per quello temperatura un po' più alta densità maggiore anche perché molte vengono rilasciate dal dal grano poi ci sono i cosiddetti shock che sono appunto momenti dei veri e propri jet in cui si possono raggiungere temperature un po' più elevate ma la maggior parte delle situazioni sono temperature molto basse che vanno dai 10 ai 100 Kelvin quindi dai meno 173 gradi centigradi ai meno 263 gradi centigradi densità bassissime per cui ad esempio mentre in laboratorio facciamo fatica a dobbiamo preparare queste specie più instabili come ad esempio specie ioniche sia con le cariche positive che con le cariche negative le dobbiamo preparare e osservare nel momento in cui le prepariamo la densità è talmente bassa che anche specie così reattive che sulla Terra non potremmo osservare riescono a vivere a lungo da essere osservate di sintesi avvenute chissà quando in condizioni anche diverse da quelle in cui vengono poi osservate beh sì noi osserviamo le molecole quando si sono prodotte il ciclo che ho fatto vedere di una stella dura miliardi di anni quindi 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 altre domande o curiosità altrimenti ringraziamo di nuovo la nostra ospite Cristina un applauso e come detto vi sarà già un rinfresco preparato e offerto per tutti voi in un corridoio a questo piano e alla prossima appuntamento di Vision